Un gol è importante, voglio dire. È vero che è un bel gol, sono contento per il gol, però la cosa la più importante è la vittoria. Siamo cosiddetti animali da campo, quindi star fuori, veder fuori non è semplice, però sono contento che adesso rivedo un po' di luce. Era veramente importante arrivare al risultato, con la pazienza, con il gioco, con l'attenzione, stasera ci siamo riusciti. È stata una partita tosta, dura, però siamo stati bravi. Abbiamo ottenuto botta al Sassuolo e comunque è venuto spregiudicato a giocarsela. Alla fine, insomma, la stiamo allungando sulla Roma e sono punti importanti. Il contempo, soprattutto quando loro sono un po' calati e noi abbiamo aumentato l'intensità di velocità di passaggio e di gioco, i segnali erano, insomma, confortanti. Un passo molto importante, pensando sicuramente al futuro. Non bisogna avere fretta e anzi arrivare al risultato, perché tanto le partite se ne gioca di campionato una alla settimana. Quindi il campionato non lo abbiamo vinto stasera, non lo vinceremo sabato a Palermo, però bisogna continuare a cercare di fare dei punti e delle vittorie per arrivare alla quota campionato. Abbiamo fatto un bel passo davanti e dobbiamo continuare così, va a essere molto difficile. Dobbiamo essere consentati al 1000%. Speriamo di fare un grande finale, siamo ancora in ballo in tre competizioni e quindi spero di dare una mano se c'è bisogno.